Il 19 maggio sarò a Roma a partecipare alla manifestazione indetta dal sindacato dei pensionati per varie ragioni. Tra le priorità che secondo me vanno sottolineate c'è la maggiore attenzione che dobbiamo richiedere alla politica nei confronti dei giovani. Secondo me va rivisto il mercato del lavoro perché adesso è molto punitivo e ostile nei confronti dei giovani e va rivista anche la legge Monti Fornero.